Ciao a tutti, io sono Gabriele e sono felice di presentarvi questo videocorso in cui vi svelerò tutti i miei handpan segreti. Il videocorso è suddiviso in varie lezioni. In ogni lezione vedremo un ritmo, una melodia o degli stili diversi. Tutta roba che io concretamente uso nelle mie canzoni. Quindi quello che voglio passarvi è un modo per poter suonare e per poter divertirsi. Infatti vi farò vedere dei pattern specifici in cui suono delle note che però possono essere usati, insomma cambiando le note, cambiando movimenti e colpi per improvvisare e per divertirsi, per suonare per ore. In questo corso inoltre vedremo tutta una parte dedicata ai pedali. A me piace molto suonare con questi due pedali che mi danno questo a cassa e rullante. Quindi vedremo un po' di incastri che ci sono tra melodia, ritmi con le mani, armonia e questi pedali. Vedremo anche un po' delle mie canzoni spezzettate. Cercherò di spiegarvi qual è l'idea dietro a esse. E infine farò una piccola parentesi su quello che è la mia attrezzatura, quindi microfoni, amplificatori e tutto quanto. Quindi questo corso è insomma un po' dedicato a tutti quelli che hanno voglia di andare lì e suonare, divertirsi e godersela. Spero che vi piaccia e ciao! Grazie a tutti!